Ma voi davvero siete convinti? Ma voi davvero siete convinti, ratti milanisti? Ma davvero siete convinti che siete una squadra forte? Perché adesso avete battuto il Paris Saint Germain 2-1, dopo che all'andata vi hanno piallato, fra parentesi. Ma io veramente, sapete cosa mi sorprende di voi ratti milanisti? Che avete perso quella grandezza che avevate prima. Ma proprio qui, nel cervello, cioè nel pensare in grande come facevate prima. Io credo che un milanista, fino a 15 anni fa, non avrebbe mai esultato per aver vinto una partita in Champions la prima, dopo averne giocate tre, facendo zero gol. Cioè, ma io veramente, ragazzi, voi avete fatto zero gol in tre partite, col Borussia e col Newcastle, che è una nuova entrata della Champions League. Cioè, gente che non ha mai neanche, veramente, con giocatori. Cioè, il più forte che c'hanno è Tonali. Questo dice tutto. Ok? E voi esultate per aver vinto 2-1 contro di loro come se avesse fatto l'impresa della vita. Fra l'altro, io vi ricordo quella che è la vostra situazione. Cioè, voi, dopo aver fatto zero gol, perché di questo qua si parla zero gol, va. Avete cinque punti, siete comunque terzi. Devi andare a giocare contro il Borussia a casa loro. Ok? E io, cioè, non lo so, ma come fate a risultare? Come fate a credere che siete una squadra forte? Poi Giroud e Leao, dopo ieri, sono tornati a essere fenomeni. Io questo lo immaginavo e l'avevo previsto. Perché se vi guardate il mio video pre-partita, intitolato Dolarumma, ma dove parlo anche della partita che si sta per giocare, quindi l'ho fatto un elettro, un eletto e mezzo prima di Milan PSG, io ho detto che in quella partita potevano fare la differenza Leao, Hernandez, ma anche Giroud. Perché? Perché i calciatori non tecnici, che non riescono a fare la differenza negli spazi stretti, come Leao, come Hernandez, hanno un solo modo per farla, cioè buttare la palla avanti e correre. Ovviamente questo gli viene concesso contro le squadre che hanno un gioco offensivo. Quindi il Paris Saint-Germain che attacca, ti viene a prendere alto e ti gioca nella tua metà campo per 90 minuti, non gliene frega niente, quindi gioca da grande club sotto questo punto di vista della strategia, è chiaro che ti lascia gli spazi. E allora lì è l'unica cosa in cui può essere pericoloso quello che per voi è un fenomeno, a mio avviso è un giocatore mediocre, se non scarso, che è Leao. Stessa cosa a Tevernandez. E ovviamente di riflesso Giroud sono le uniche partite in cui può prendere qualche pallone decente. Perché? Perché viene marcato male. come Skriniar, c'era solo lui su Giroud, a parte che Skriniar che è andato via dall'Inter fa schifo, tutte le partite prende quattro in pagella, non è più lui, ben gli sta, perché chi lascia l'Inter fa questa fine. Però comunque in quel caso può essere servito più libero Giroud. Non ne ha due, tre addosso che lo marcano, ne ha uno forse e la marcatura non viene neanche fatta bene, perché è fatta da pochi giocatori, non c'è densità. Ma questi sono discorsi che voi, Ratti, non capite. Perché avete perso la grandezza? Cioè io mi sorprendo di come gente che ha visto indossare la maglia numero 10 a Savicevic, che era un fenomeno, a Rui Costa, che era un altro fenomeno, a Ronaldinho, che non aveva le 10, aveva l'80, ma era sempre un numero 10, a KK, a questi fenomeni assoluti che possa andare avanti, ne avete avuti parecchi. Come fate a dire che Leao è forte? Ma voi pensate che Leao si è impegnato col PSG e con l'Udinese no? Cioè voi questo davvero pensate che con l'Udinese aveva la serata assolta, con l'Udinese ma con altre mille squadre con cui non ha fatto nulla. Leao, vi ricordo che ha tre gol dopo due mesi e mezzo di campionato, se non tre, no anzi tre mesi. Quanti gol ha fatto? Tre gol, mi sembra. Andiamo a vedere Leao, i suoi numeri, così non ci sbagliamo. Allora, il vostro super fenomeno di Rafa Leao, quest'anno ha... Andiamo a condividerlo così magari, poi diceva il monarca mente. Allora, eccolo qua. Rafa Leao ha undici partite di campionato, vedete, undici presenze e tre gol. In Champions League quattro presenze e un gol. Quello che ha fatto col Paris Saint Germain, che è un regalo di Donna Roma, perché lui fa una specie di rovesciata. La rovesciata è quando salti in alto e quella che fa Cristiano Ronaldo a Real Madrid contro la Juve, quella è una rovesciata. Quella che fa Leao è una specie di acrobazia da Circenze, con la palla che va a due all'ora e Donna Roma che gli regala il gol. E' diverso. E quello che vi voglio dire è che non è che è diventato forte col Paris Saint Germain e con l'Udinese invece era scarso. Semplicemente lui è un giocatore mediocre che ha una cosa sola, la velocità. Cioè, nel momento in cui ha campo aperto, quindi l'altra squadra che gioca all'attacco gli lascia lo spazio, lui si butta la palla in avanti e essendo più veloce arriva a tirare, ma molte volte quando tira non c'entra la porta. Cioè lui quando prova il tiro a giro, la palla va in terzanello, potete contargli col che ha fatto col tiro a giro da fuori aria, potete contarli, se non ho pochissimi. La cosa che fa più spesso è quella di mettere la palla a raso a terra perché lui non la sa alzare. Quando lui fa il cross sul primo o sul secondo paro la maggior parte delle volte non becca il compagno, mai. Quindi lui i veri assist che fa è la palla a raso a terra che è molto semplice. Ovviamente a difesa non schierata. Quando trovi squadre chiuse che però non hanno centrali scarsi, cioè perché se si chiude il Verona il gol forse riesce comunque a farlo uno come Leao, perché sbagliano comunque anche se stanno chiusi. Ma già l'Udinese che ha dei centrali un po' più discreti, più forti di valore assoluto. Quando si chiude, Leao scompare. Con la Juve, altra squadra chiusa, è stato marcato da gatti, Leao scompare. Perché è un giocatore scarso. Cioè è un giocatore solo veloce, ha solo il mezzo fisico della velocità, nient'altro, la tecnica che gli riconoscete. Non va bene. Guardate la partita che ha fatto con la Juve o con l'Udinese. Cioè lui non aveva spazio per andare in avanti, provava il cross, sai di quelli proprio inutili, dalla tre quarti a rientrare anche basso, sono tutti preta dei centrali. O provava il tiragiro, non c'è stato neanche vicino all'incrocio. Quindi io mi sorprendo di come abbiate perso la grandezza di pensare che questi siano giocatori forti, di pensare che voi avete una squadra forte, una squadra che per tre partite non fa un gol in Champions League. Una squadra che adesso è comunque terza. In campionato è anche terza, sei punti da noi, e cara grazia che avete rubato quei tre punti di Genova, se no sarebbero stati già otto. Di che cosa stiamo parlando? Io mi sorprendo di voi e del fatto che abbiate perso ogni minima cognizione di senso critico. Guardate l'Inter. L'Inter è chiaro che non può giocare sempre a mille all'ora, perché nessuna squadra può fare un bel calcio tutte le partite, però comunque non fa un calcio sempre di possesso, che però abbina anche verticalità. E lì ha i campioni veri che la risolvono, anche quando il gioco per mille motivi non è tanto fluido, che poi il motivo è sempre uno solo, la stanchezza fisica. Quindi quando Cialanoglu e Mkhitaryan, che sono il fulcro del centrocampo e quindi del gioco dell'Inter, calano, corrono meno, e quindi fanno meno scambi, meno sovrapposizioni, meno triangolazioni, comunque poi viene risolta la partita dal campione, vero, Lautaro, guarda il gol che fa con l'avarante. Viene servito in aria, lui non fa diecimila tocchi. Si sposta la palla velocemente, un tocco, tiro a giro, gol. Di quei gol Lautaro ne ha fatti duemila. Andatevi a vedere i gol che fa Lautaro. Questo è un gol che Leao non sa fare. Lautaro in quella maniera segna continuamente, quella è la differenza fra un campione, un giocatore normale, mediocre, vedete voi qual è il vostro livello di paragone. Per me un giocatore forte non si avvicina neanche uno come Leao. Giroud è stato forte, adesso è un vecchio che fa 12 gol l'anno. i centravanti del Milan forti devono farne davanti a salire. Cioè il Milan è gente che ha avuto Shevchenko. Voi adesso pensate sia forte Giroud. Veramente resto basito, resto basito. E quindi io vi dico di non esaltarvi perché la differenza la vedete l'Inter ieri sera. Una partita dove quelli andavano a mille all'ora. quelli di Salisburgo. Poi tecnicamente è chiaro che non sono forti. Però andavano a mille all'ora. L'Inter non ha sofferto. Non sono stati pericolosi mai. Perché? Perché abbiamo un valore assoluto enorme fra i difensori e i centrocampisti. E anche se non sono in super serata a correre o a marcare, comunque non passi perché il valore assoluto nostro è troppo forte. Cosa che invece voi se non giocate a mille all'ora e se non avete una squadra che vi lascia il contropiede diventate inefficaci e inutili. Quindi io vi invito a riflettere fra le differenze. Fra l'altro non mi venite a dire assolutamente che l'Inter è il girone più facile del Milan. Perché io vi faccio vedere una cosa. Allora, la situazione vostra credo sia questa. Cinque punti dopo quattro partite con due gol fatti e quattro subiti. Se le vincete tutte e due quelle che restano andate a undici punti. Quindi vincendole tutte e due che non succederà mai andate a undici punti in un girone con Borussia Dortmund il PSG che non è più il PSG di Neymar Mbappé e Messi e Berratti cioè è rimasto solo Mbappé lì di forte forte e gli altri non sono fortissimi. E poi Borussia Dortmund che non è una big europea e Newcastle che è una novellina della Champions. Io invece in questo girone un anno fa che adesso vi faccio vedere chiudo a dieci punti in un girone che conta Bayern Monaco e Barcellona. E faccio dieci punti e passo il girone. Questo è avere un girone difficile non quello che avete voi. Un Bayern Monaco con i suoi campioni e un Barcellona con altri tanti campioni. Quello è passato in un girone difficile. Quindi riflettete cari ratti milanisti nelle differenze che c'è fra una grande squadra composta da grandi campioni e una squadra mediocre composta da giocatori mediocri. Per chi volesse vedere come si passa ad essere attaccante esterno che magari si allunga la palla e basta in velocità a essere attaccante esterno che poi diventa un attaccante che fa show e goal si guardasse la partita ieri di Marcus Turano. Chiudo con questa chicca. mi raccomando iscrivetevi al canale anche voi milanisti così imparate un po' di calcio iscrivetevi al canale cliccate su iscriviti e dopo sulla campanella su tutte in modo che vi arrivino tutte le notifiche delle mie live dei miei video e e possiate diffondere il verbo del monarca. Il nostro solito salute in latino vide te mox grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.